Io trovo sempre quello che cerco. E oggi cerco Chiara. Chiara De Stefano, studentessa di lettere classica. Devo solo trovare un'esca. Amo le canzoni di Roby Roly. Trovata. E ora si comincia. Grazie per l'amicizia principessa. Principessa non avrai più segreti per me. Cosa fai, dove vai, chi ti piace. Sei piccola, romantica, ingenua. Sei perfetta. E ora provo a catturarti. Vuoi vedere il petro mondo di Milano? Stasera l'autogettino del Castello. Ok, ci vediamo lì. Presa. Social Killer. Un romanzo di Vito Di Bari. Solo sul tuo cellulare.